Benvenuti da Claudio Brachino, nuova puntata di Italpress Economy, oggi tante notizie, un focus importante su più temi, una intervista importante, ma cominciamo come nostra abitudine con i servizi e le notizie che riguardano l'Italia, cominciamo dallo stato della produzione industriale. 2023 negativo per la produzione industriale italiana, in cano del 2,5% rispetto al 2022, a evidenziarlo è l'Istat, sottolineando che l'evoluzione in corso d'anno è stata caratterizzata da cali congiunturali in quasi tutti i trimestri, con l'eccezione del terzo, quando si è registrato un lievissimo recupero. Segnali di ripresa a dicembre 2023, quando la produzione industriale è aumentata dell'1,1%, l'indice mensile mostra un sensibile rialzo per i beni di consumo, più 3%, e una crescita più contenuta per i beni strumentali e i beni intermedi, di contro cala l'energia. I settori che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, la fabbricazione di apparecchiature elettroniche e le industrie alimentari, bevande e tabacco. Flessioni più ampie invece nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria, e nella fabbricazione di macchinari e attrezzature. Debito pubblico in salita nel 2023. Al 31 dicembre, secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è cresciuto di 105,3 miliardi, risultando pari a 2.862,8 miliardi, il 141,7% del PIL. A favorire la salita, il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, l'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del cambio. L'incremento ha riguardato anche le disponibilità liquide del tesoro. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle amministrazioni centrali è cresciuto di oltre 109 miliardi, mentre quello delle amministrazioni locali si è ridotto di 3,9 miliardi. Il debito degli enti di previdenza è invece rimasto stabile. La vita media residua è risultata in linea con i livelli di fine 2022, 7,8 anni. Nel corso del 2023 la quota del debito detenuto dalla Banca d'Italia è diminuita, collocandosi al 24,3% a fine anno. Dopo il 2020 il popolo delle partite IVA è tornato ad aumentare e oggi abbiamo una platea di 5 milioni di iscritti, una cifra che però rimane lontana dai 6,2 milioni registrati agli inizi del 2004. Il dato è stato analizzato dall'ufficio studi della CGA che evidenzia come alcune categorie appartenenti al mondo del lavoro autonomo non godano di buona salute, in particolare i lavoratori autonomi classici come gli artigiani, i piccoli commercianti e gli agricoltori. Crescono invece le partite IVA senza albo o ordine professionale. Micro imprese e loro dipendenti rappresentano un blocco sociale di oltre 6 milioni di persone che prima del Covid produceva quasi 200 miliardi di PIL e negli ultimi 40 anni è diventato centrale in molte regioni del paese, una componente strutturale del nostro sistema economico soprattutto nel nord-est. Il trend positivo registrato dallo stock di lavoratori autonomi in questi ultimi tre anni, secondo la CGA, è sicuramente ascrivibile alla ripresa economica maturata dopo l'avvento del Covid. Con un PIL che nel biennio 2021 e 2022 ha toccato livelli di crescita molto elevati è aumentata l'occupazione e conseguentemente anche quella indipendente. Ad allargare la platea degli autonomi ha concorso anche il fisco. L'introduzione del regime forfettario per le attività autonome, con ricavi e compensi inferiori a 85 mila euro, ha reso meno gravoso di un tempo gestire fiscalmente un'attività improprio. Non è da escludere tuttavia che la crescita numerica di questo settore sia riconducibile anche all'incremento delle false partite IVA grazie al boom dello smart working. Nell'ultimo anno il Molise, la Liguria, la Calabria e l'Emilia-Romagna hanno registrato gli aumenti più importanti di lavoratori autonomi. Abruzzo, Umbria, Trentino-Alto-Adige e Marche, le contrazioni più significative. E ora lo sguardo, sempre più importante, vedete anche le notizie dell'attualità, insomma, stretta, economica, politica, la manifestazione dei trattori di cui parleremo, il Green Deal, insomma le notizie sull'Europa, non solo perché ci avviciniamo alla campagna elettorale, ma perché l'Europa, non ci stanchiamo mai di dirlo, oramai è molto importante per quanto riguarda l'andamento delle economie nazionali. Anche su un tema come quello del Green, si è parlato molto di Green Deal in questi giorni per la protesta dei trattori, ci sono notizie, non ci sono solo le proteste, insomma, è la notizia positiva che l'Unione Europea ha stanziato per quanto riguarda l'idrogeno verde 550 milioni destinati proprio al nostro Paese. La Commissione Europea ha dato il via libera a 550 milioni di aiuti per l'Italia destinati a sostenere gli investimenti per l'utilizzo dell'idrogeno nei processi industriali. Si punta a favorire la transizione verso un'economia a zero emissioni in linea con il Green Deal. Nel quadro della misura finanziata mediante risorse assegnate al PNRR, l'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzioni dirette. A beneficiarne saranno le imprese che dipendono dai combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima per i processi produttivi in settori industriali in Italia. I progetti ammissibili devono determinare una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai processi di produzione, oppure una riduzione di almeno il 20% del consumo energetico rispetto ad oggi. Per poter fruire della misura le imprese devono passare dall'impiego di carburanti fossili a quello dell'idrogeno rinnovabile e possono combinare questi investimenti con interventi per elettrificare i processi produttivi o migliorare in modo significativo la loro efficienza energetica. La Commissione europea ha lanciato una nuova guida interattiva che traccia tutte le opportunità di finanziamento disponibili per le zone rurali. L'individuazione dell'opzione più appropriata non è sempre semplice per i potenziali beneficiari. Il pacchetto di strumenti per le zone rurali raccoglie opportunità provenienti da 26 diversi fondi dell'Unione, dalla politica agricola comune ai fondi di coesione, a Orizzonte Europa e al dispositivo per la ripresa e la resilienza. In pochi clic gli imprenditori rurali e le autorità locali possono trovare i migliori finanziamenti disponibili per aiutarli a sviluppare il loro progetto. Questa nuova porta globale di accesso alle iniziative di sostegno disponibili per le zone rurali dell'Unione europea, mira a dotare i richiedenti delle conoscenze e degli strumenti necessari per rispondere alle loro esigenze. I beneficiari possono essere autorità locali, istituzioni, imprese, associazioni e singoli individui. Il pacchetto di strumenti per le zone rurali fornisce ampi orientamenti su come sfruttare al meglio le opportunità disponibili. Gli utenti possono trarre ispirazione ed esplorare un'ampia gamma di esempi e studi di casi, scoprendo come i fondi e i meccanismi di sostegno dell'Unione siano già stati attuati con successo. Dopo le notizie sull'Europa, lo sapete, c'è nel nostro format sempre un'intervista. All'intervista di questa puntata ci ha raggiunto in studio, lo ringraziamo, Flavio Ghiringhelli, Benvenuto, Country Manager Emirates Airlines. Quindi oggi parliamo della mobilità aerea e della sua compagnia, della compagnia che lei rappresenta. Allora, a questo proposito, come va la campagna di reclutamento? Io la chiamo in italiano di nuovo personale di bordo avviata dalla compagnia. Io ho letto, ho visto anche delle sue interviste video, so che ci tenete molto a questo aspetto della selezione del personale e anche, sicuramente, anche dell'investimento sul personale di bordo, no? Preparazione, competenza, no? Corretto. Noi siamo partiti quest'anno con una campagna che ci vede impegnati a reclutare in giro per il mondo 5.000 persone che entreranno a far parte dell'organico che lavora nelle cabine tra virgolette dei nostri aeroplani. Quindi è un'attività che noi stiamo facendo che arriva già dallo scorso anno perché noi abbiamo fatto partire questa campagna nel 2023 post-Covid dopo che abbiamo avuto la necessità di introdurre nuovo personale. Lo scorso anno abbiamo introdotto 8.000 persone che hanno raggiunto naturalmente l'attività di assistente di volo all'interno della compagnia e già ad agosto del 2023 avevamo raggiunto oltre 20.000 persone che fanno parte dell'organico della società. A fine dello scorso anno, quindi nel 2000, fine 2023, avevamo raggiunto 21.500 dipendenti. Questa è una campagna che abbiamo fatto partire per soddisfare due esigenze particolari. Una, la prima, è quella di naturalmente rafforzare il numero delle persone che collaborano in questo reparto che è importantissimo in termini di ospitalità che diamo ai nostri clienti e dall'altra parte perché noi abbiamo fatto un investimento multimilionario in aeroplani. Quindi noi abbiamo una lista di oltre 300 aeroplani che stiamo attendendo e a breve arriveranno i nuovi Airbus A350 che proprio nei prossimi mesi verranno inseriti anche all'interno del mercato italiano. Allora, se le posso mettere insieme queste due cose, è la vostra attenzione all'ospitality che vuol dire il tipo di mezzo che ti offro, con le sue caratteristiche anche di comodità, di servizio, estetiche, tecnologiche e insieme al personale umano che è a bordo. Le due cose cambiano molto la qualità del nostro viaggiare, no? Assolutamente. E anche il costo ovviamente di quello che dobbiamo fare. Però è un'attenzione, mi sembra che per voi sia molto importante questa, diciamo, del servizio complessivo insomma. Sì, quando la compagnia è nata nel 92 in Italia, subito ha portato una ventata di novità rispetto a tutta l'attività che era stata fatta da quando la compagnia è nata nell'85 a Dubai. Cosa significa questo? Che rispetto a tutti gli altri, diciamo, vettori che operavano sul territorio italiano, quello su cui noi ci siamo focalizzati è stata proprio l'attenzione ai nostri clienti a bordo. Quindi fare in modo che i nostri colleghi assistenti di volo fossero in grado di erogare un servizio completamente diverso rispetto a quello che veniva fornito ai tempi da tutti gli altri vettori. E questo combinato poi con tutta una serie di servizi che noi abbiamo previsto a bordo come, ad esempio, il fatto che abbiamo un menù... Ho visto un bel servizio televisivo con dei piatti in primo piano. Esatto. E lei che diceva che anche l'attenzione al cibo è cambiata oggi nelle persone che vengono a bordo. Assolutamente, perché ci sono tutta una serie di esigenze al di là delle logiche, diciamo, di allergie o cose di questo genere, ma ci sono proprio esigenze di palato completamente diverse che in una logica poi multiculturale come quella a cui noi oggi ci rivolgiamo assolutamente è necessario fare in modo che ci sia una scelta variegata, non solo dal punto di vista del cibo ma anche dal punto di vista delle bevande. Anche perché noi abbiamo un'erogazione di prodotti a bordo che sono selezionati tra i migliori che sono disponibili sul territorio mondiale. E in Italia, particolarmente, abbiamo una serie di chicche, tra virgolette, che eroghiamo a bordo e che ci fa molto piacere, insomma. Che cosa vuol dire qualcuno? Abbiamo il nostro olio di bordo, che è un olio che viene acquistato qui in Italia e poi abbiamo una selezione di vini... Vedete l'eccellenza dei nostri territori e la mettete in volo, insomma. Corretto. E beh, questo è un servizio importante. Senta, voi avete anche un'academy, no? Che poi, insomma, noi parliamo sempre di formazione negli ultimi anni, dell'attenzione alle grandi aziende, o anche alle aziende meno grandi, a questo tema del formare poi il proprio personale, ma di fare formazione in assoluto. E quindi fare un'academy per voi significa investire anche lì sul capitale umano e prepararlo, no? Voi ho sentito prima che noi, prima dell'intervista, ci si incontra, che addirittura vi fate fare parecchi passi avanti rispetto alle altre compagnie, insomma. È così? Sì, noi siamo partiti all'inizio della nostra avventura cercando di capire che cosa era stato fatto bene dagli altri vettori e che cosa era stato fatto meno bene. Ci siamo voluti concentrare sul servizio di bordo e quindi era necessario creare un'academy direttamente a Dubai dove formare i nostri dipendenti. I nostri dipendenti che vengono formati in una logica di attenzione particolare a tutti i clienti che salgono a bordo, quindi sia dalla classe economica, classe business e classe first. Una delle novità che abbiamo introdotto l'anno scorso è stata un accordo con l'Ecole Hotelier di Lausanna che è la più importante, diciamo, università di preparazione all'ospitalità per tutte quelle persone che hanno deciso di intraprendere la loro carriera nell'ambito dei servizi di ospitalità, dove andiamo a formare i nostri assistenti per cercare di comprendere quelle che sono le esigenze latenti, mi passi questo termine, dei nostri clienti per fare in modo che ci sia un wow effect completamente diverso. Mi piace, esigenze latenti. Io che vengo dal mondo della... sono un umanista, vengo dal mondo della letteratura, i grandi sociologi della letteratura lo chiamano una volta orizzonte d'attesa. Si dice che è un grande romanzo, se finisci in un'epoca dove non coglie l'orizzonte d'attesa l'autore è genio ma finisce povero e non riconosciuto, un romanzo meno bello ma che coglie l'orizzonte d'attesa, poi alla fine è a grande successo. Quindi l'esigenza latente credo che sia l'aspettativa, diciamo così, del destinatario a cui vi rivolgete secondo la vostra fette di mercato. Va bene? Ho un certo dato bene? Perfetto. Il suo giudizio sull'andamento del settore complessivo. L'andamento direi che dopo il Covid, che è stata una situazione che ha creato diversi problemi a tutte le compagnie aeree, perché è stata la prima volta nella quale sono effettivamente stati spenti completamente i motori, cosa che non è mai successa nel mondo del trasporto aereo, quasi tutti i vettori si sono rimessi in moto, direi nel migliore dei modi e si sta ancora lavorando per arrivare a dei livelli pre-Covid. Quindi stiamo cercando di recuperare il terreno perduto nei due anni passati e quindi stiamo investendo naturalmente in logiche di aeromobili, nuove rotte e andare a dare una serie di servizi aggiuntivi a tutti i nostri clienti, ripensando un po' la logica di quello che potrebbe essere il trasporto aereo del futuro. Certo. Riguardo alle novità, alcune le abbiamo dette, abbiamo parlato sicuramente per me la novità, non la sapevo dell'Academy, ma anche dell'investimento sulle persone, sul capitale umano, facciamo il punto per chi ci ascolta, per i potenziali passeggeri, per gli otti passeggeri anche diciamo così che già avete, insomma quali sono le novità complessive di questo 2024 riguardo alle rotte, riguardo agli aerei, in parte ha accennato, forse non l'ha detto, ne ha detto tre, ma mi sembra che ci sia una quarta alle classi di volo. Esatto. Vedete che sono preparato, non ci aspettavano. Bravissimo, infatti la portiamo. Adesso mi ritrovo a Dubai la prossima volta, sto lì sulla spiaggia e aspetto. Esatto. Facciamo vita al presso Dubai. Perfetto, sarebbe perfetto. E allora le novità assolute di questo 2024 per quanto riguarda i nostri passeggeri saranno l'introduzione degli aeromobili A350 che abbiamo detto che sono una novità assoluta e poi il fatto che stiamo rimodernando completamente la nostra flotta A380 e 777, questo per fare in modo che ci siano delle classi di viaggio completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo oggi. Cosa significa questo? Stiamo rimettendo mano ai materiali, al design dei sedili e degli aeromobili interni stessi. Avete pensato a quelli di quasi due metri o a me. Esatto. E abbiamo considerato l'opportunità di inserire una quarta classe di servizio. Quindi noi con questo investimento che sta prevedendo lo sviluppo e la trasformazione di 120 aeroplani avrà l'introduzione di questa nuova classe di servizio che è la premium economy. E quindi una classe intermedia... Quindi quanto sono? Rifacciamo tutto dal 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 dal? Esatto, dall'economy, premium economy, business e first. E quindi siamo la prima compagnia aerea al mondo che viaggia con quattro classi di servizio. La possibilità credo per i passeggeri di declinare anche i costi. Assolutamente. Avere più chance di spesa insomma. Guardi, le dico una cosa interessante da questo punto di vista è che l'introduzione della premium economy è stata dettata dal fatto che dopo il covid molte persone che normalmente viaggiavano in classe economica ci hanno richiesto di avere un po' più di spazio e un po' più di diciamo distanza. E quindi, esatto, ci hanno suggerito di introdurre questa nuova classe e devo dire che laddove oggi l'abbiamo già inserita soprattutto per esempio sulle destinazioni dell'Australia che sono a lungo raggio da Dubai abbiamo un ritorno di soddisfazione da parte di nostri clienti altissimo. E sulle rotte? Ma il follo ha detto insomma. Sulle rotte diciamo che stiamo riprendendo completamente tutto il network che avevamo pre-covid a parte alcune destinazioni per esempio in Cina che ancora non sono disponibili perché hanno avuto qualche problema ma addirittura su alcune destinazioni in particolare l'Australia abbiamo incrementato il numero delle frequenze perché ci siamo resi conto che non solo diciamo gli australiani hanno voglia di girare ma anche tutto il mondo ha voglia di andare in Australia. un po' dopo Sinner che ha vinto esatto, meraviglioso E qual è l'impegno di Emirates sul fronte diciamo ineliminabile oramai del discorso pubblico e anche economico del business della sostenibilità magari scostando qualche luogo comune no? Esatto Se ne parla così tanto che poi se ne parla male. Esatto Allora così come tutte le aziende nel mondo anche il trasporto aereo come industria si sta concentrando tantissimo sulle logiche di sostenibilità quindi diciamo che da questo punto di vista c'è un'attenzione molto forte da parte di tutto il settore Mi preme però dire che se noi andiamo a guardare l'impatto del trasporto aereo sul totale della contribuzione alla produzione CO2 nell'area oggi la percentuale è molto bassa quella del trasporto aereo è soltanto del 2.9 per cento che è completamente diversa rispetto ad altre industrie che inquinano molto di più Ciò nonostante l'impegno da parte nostra è quello di naturalmente lavorare tantissimo su carburanti sostenibili e quindi i famosi SAF, Sustainable Air Fuel che sono i nuovi carburanti che permettono di operare in maniera assolutamente sicura e certa con un inquinamento estremamente limitato Abbiamo la possibilità di lavorare sulle rotte che facciamo fare ai nostri aeromobili e questo ci permette di consumare meno e quindi essenzializzare le distanze Esatto e poi un altro elemento importante per quanto riguarda le compagnie aeree è l'utilizzo di aeromobili di nuova generazione perché soprattutto quando parliamo di motori, di aeromobili, tutti i motori più... Esatto, esatto e quindi ci permettono effettivamente di consumare ancora meno e di riuscire ad essere molto green L'importanza dell'Italia per Emirates, dell'Italia e degli italiani direi perché io ho letto che gli italiani quando vanno in Australia si rivolgono a vostra compagnia Esatto, non solo in Australia ma anche negli Stati Uniti Esatto, direi che in tutto il mondo Emirates fortunatamente è un brand che ha saputo raccogliere da parte del mercato una simpatia incredibile e un'attenzione al fatto che viaggiare bene quindi avere l'opportunità di volare bene permette loro di stare bene dal momento in cui escono di casa fino a quando ci ritornano E uno degli elementi importanti, come diceva lei, è comunque la distribuzione sul territorio mondiale Emirates riconsidera l'Italia un paese strategico perché noi oggi siamo l'ottavo mercato più importante al mondo il terzo in Europa quindi sicuramente abbiamo un'attenzione direi particolare a questo mercato oggi operiamo con 41 frequenze settimanali abbiamo 14 frequenze settimanali da Milano quindi vuol dire due voli al giorno due voli al giorno su Roma, un volo giornaliero su Venezia e sei volte la settimana su Bologna quindi diciamo che stiamo veramente concentrando l'attenzione a questo mercato perché riteniamo che sia un mercato strategico per la compagnia Senta, ultima domanda oggi noi abbiamo parlato di questo mondo quando si parla di mobilità come lei sa in termini di geopolitica qualcuno dice che la globalizzazione sta finendo a causa dei conflitti quello che sta succedendo nello Ieme per cui le navi fanno un giro, insomma anche 15 giorni più lungo quindi in un mondo iperconnesso poi abbiamo scoperto che le merci viaggiano ancora come 100 anni fa se poi ci sono dei conflitti però noi oggi abbiamo raccontato un mondo globalizzato perfetto con una mobilità di tipo internazionale che però esalta le varie anche singole economie ecco in questo mondo che abbiamo affrontato dal punto di vista della formazione dal punto di vista della qualità, dal punto di vista del personale, dal punto di vista degli aerei dell'impatto proprio anche con il green ma insomma quanto impatterà, uso questa parola due volte in breve termine in breve tempo l'intelligenza artificiale sul trasporto aere una domanda che io faccio un po' a tutti gli ospiti qui da Perseconomico oramai ci siamo, ne parliamo nel campo della salute, ne parliamo filosoficamente ne parliamo giuridicamente, ne parliamo sindacalmente ne parliamo pure nel nostro mestiere giornalistico come lei sa nella redazione di molti articoli già meglio brutti non si capisce, magari qualcuno meglio, qualcuno peggio però insomma c'è una trasformazione in atto al di là delle bottute molto seria volevo sapere da lei che è un esponente da tanti anni, conosce bene questo mondo quale sarà l'impatto? La tecnologia così come in tanti settori industriali è strategica e devo dire che per il mondo del trasporto aereo la tecnologia è un elemento estremamente importante perché ci permette di fare un'evoluzione rispetto a diciamo attività tradizionali che fino a qualche anno fa erano in uso e in questa situazione il covid ci ha aiutato perché per esempio per quanto riguarda le compagnie aeree l'uso di sistemi per il riconoscimento facciale per velocizzare le attività in aeroporto e quindi di sicurezza e fare in modo che ci sia tutta una serie di tecnologie che oggi ci permettono anche senza l'uso di carta o di stampa di appunto carta che poi in realtà non ci serve più se non per passare un gate o per dimostrare i propri documenti alle persone che sono addette a questi controlli in realtà non servono assolutamente nulla e devo dire che l'intelligenza artificiale sta incominciando ad avere un'importanza direi strategica anche per il mondo del trasporto aereo in particolare devo dire che noi stiamo sviluppando tantissimo un'attività legata alla manutenzione dei nostri aeromobili quindi noi stiamo formando i nostri ingegneri non direttamente negli hangar e quindi su i motori veri e propri dei nostri aeromobili perché questo comporta un ritardo tra virgolette nelle manutenzioni per insegnare naturalmente agli ingegneri lo facciamo con l'intelligenza artificiale che ci permette quindi poi di virtualmente ricreare l'ambiente dell'hangar e fare in modo che gli ingegneri possano fare manutenzione in maniera virtuale io penso che questa è una notizia importante anche perché ci segue e anche applicazione concreta perché ripeto poi come nella sostenibilità rischiamo sempre di fare ragionamenti fumosi o in genere dobbiamo poi declinarli settore per settore e vedere qual è la trasformazione spesso in positivo come lei dice io poi sono d'accordo con lei poi certo noi abbiamo un problema ripeto sul piano etico di alcuni confini ma ci sono sicuramente delle applicazioni che possono migliorare la nostra vita la qualità della nostra vita anche in questo caso siamo anche la sicurezza quindi che è una cosa non da poco quando si chiama assolutamente io uno dei primi eri che ho preso avevo paura ero molto giovane il comandante mi disse quando siamo su noi facciamo sempre il segno della croce quando atterriamo facciamo sempre il segno della croce questo per dire che un uomo che vola è sempre una cosa eccezionale non ci dobbiamo mai dimenticare questo sei d'accordo con me filosoficamente assolutamente sì anche perché è una cosa meravigliosa il volo ci permette la tecnologia assolutamente però devo dire che in questi anni ormai è dimostrato che è il mezzo più sicuro al mondo e quindi da questo punto di vista devo dire che c'è un grosso riconoscimento che bisogna dare soprattutto a quelle società che hanno fatto uno sviluppo tecnologico degli aeromobili oggi estremamente importante guardi qualche volta in segno positivo le tragedie servono io mi sono occupato di cronaca la morte per esempio di Senna ha fatto sì che poi nella Formula 1 purtroppo Senna è morto ci dispiace abbiamo raccontato quella tragedia qui a Imola però quella morte è servita alla tecnologia della sicurezza della Formula 1 evitare tante altre morti che prima ci erano stati quindi qualche volta le tragedie quando accadono se davvero poi le compagnie hanno voglia di investire in questo senso fanno fare un passino avanti per le sicurezze di quelli che vengono dopo lo dico poi ma poi non era questo l'argomento della nostra intervista volevo chiudere sull'intelligenza artificiale siamo persi in una digressione filosofia io la ringrazio per tutta l'informazione che ci ha dato grazie a lei e di aver dato questa intervista qui a Ital Press Economy grazie a Flavio Ghiringhelli Country Manager di Emirates Italia ho detto bene? corretto stavolta l'ho detto a memoria perché io scrivo e guardo è bene come dice a memoria in realtà qualcuno si dimentica il nome proprio di Mattarella bisogna rifare da capo grazie ancora ci vediamo per stare in tema un servizio che c'è sempre nel nostro format che la può interessare le novità proprio del mondo della tecnologia del tech vediamo perfetto l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 si tratta di un documento di programmazione strategica attraverso il quale le EPA e le imprese interessate troveranno tutte le informazioni e le azioni da mettere in campo per concorrere allo sviluppo della maturità digitale del paese nei prossimi tre anni la nuova edizione del piano si caratterizza per una maggiore attenzione agli aspetti di governance e per un approccio fortemente orientato ai servizi digitali che devono essere sempre più facili da usare inoltre per la prima volta il piano affronta il tema dell'intelligenza artificiale fornendo indicazioni e principi generali che dovranno essere adottati dalle amministrazioni e declinati in fase di applicazione tenendo in considerazione lo scenario in rapida evoluzione il nuovo piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione rappresenta un passo cruciale verso la trasformazione digitale del nostro paese sottolinea il sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Alessio Butti Oggi nel nostro focus siamo uno davanti all'altro non negli studi di Roma e Milano ma insieme così almeno possiamo guardarci e fare segno quando uno vuole intervenire oppure quando uno scherzo lo facciamo anche quando siamo collegati Giuliano Zoppis è il nostro economista e il nostro focus che è un punto importante di Italpress Economy oggi l'abbiamo chiamato scenari facciamo cosa si chiamava una volta al pastore più cose di una volta però a differenza di quelli che devono nascondere o mettere le notizie noi li mettiamo allo stesso livello di importanza e cominciamo con l'attualità stretta a Roma insomma c'è stata ieri una nuova manifestazione dei trattori quelli dissidenti rispetto a quelli che hanno già trovato un accordo con il governo facciamo il punto della situazione che la gente non ci capisce più niente trattori d'Europa trattori d'Italia trattori d'Italia bis che succede? ma succede appunto che anche all'interno del movimento dei trattori c'è un certo dissidio nel senso che una parte dei protestanti sta mollando ha mollato sostanzialmente i presidi perché soddisfatta delle misure che il governo ha varato in termini fiscali che ricordiamo sostanzialmente l'esenzione totale fino a 10 mila Euro di reddito e l'esenzione al 50% fra i 10 e i 15 mila Euro quindi comunque una grande fetta di chi protestava su queste cose e si ritiene accontentata e sta abbandonando la protesta rimangono invece coloro che ritengono questa misura insufficiente e vogliono che si torni a un'esenzione totale praticamente che tutti i redditi dominicali siano esentati dall'IRPEF e sono quelli sostanzialmente più arrabbiati con l'Europa perché in Europa che succede? la burocrazia europea ha varato dei provvedimenti direi abbastanza cervellotici alcuni li sta rivedendo per esempio ha fermato almeno per il 2024 la messa a riposo del 4% dei terreni agricoli che aveva chiamato in modo enfatico rifristino della natura e sta rivedendo anche un po' il discorso relativo ai fitofarmaci cioè ai pesticidi che volevano essere aboliti del tutto o perlomeno in una fascia iniziale del 50% un'altra cosa sulla quale Bruxelles sta lavorando è la sospensione di questo accordo con il Mercosur cioè l'unione dei stati sudamericani che avrebbe portato sicuramente dei danni alle produzioni agricole europee e quindi ai prezzi quindi rimane aperto sostanzialmente questo fronte che oggi come oggi è principalmente comunitario ti voglio chiedere una notizia chiederti se noi qui spieghiamo tutto e il pregio credo di questo settimanale è anche quello di raccontare in maniera anche popolare popolare vuol dire semplificata ma in senso buono le complessità di alcune notizie economiche c'è chi dice e sono quelli che hanno preso un po' in antipatia la manifestazione dei trattori tutti che questa cosa che dicevi tu del reddito non è un reale ma si riferisce al valore catastale dei terreni qualche volta ci sono 10.000 euro di reddito legati a un terreno ma poi in realtà in termini produttivi si fanno molti più soldi facendo magari un certo tipo di uva in quello stesso terreno dice allora però signori miei calcoliamo la ricchezza di questi signori che vengono a protestare per davvero non su una categoria e te lo dico che mi è capitato di fare un talk con la firma del Corriere firma economica del Corriere della Sera Fubini che dice è un disturbo cognitivo tipicamente italiano disturbo cognitivo è brutto mettiamolo a posto il disturbo cognitivo ma nel senso che comunque è un po' il discorso che vale anche per le reddite calastrali un riferimento ci deve essere per calcolare queste rendite questi redditi quindi da questo punto di vista il reddito dominicale viene calcolato in base a una rendita questo però non toglie che poi le spese impreviste che molto spesso purtroppo rispetto ad altre categorie produttive lavorative sono assolutamente imprevedibili mi riferisco per esempio al clima incidono su questo quindi secondo me è un po' falso problema nel senso che comunque un riferimento c'è ed è quello con questo stesso ragionamento dovrebbe rivedere tutto il sistema della rendita calastralica non è un disturbo cognitivo ma spesso un disturbo percettivo sapere se la nostra economia va bene o va male noi diciamo sempre che quando lo si fa bisogna farlo non ideologicamente ma sulla base di numeri di analisi dei numeri anche di capacità più o meno scientifiche di previsione oggi sono arrivati i dati della previsione europea sulla nostra crescita ma di crescita ne ha parlato pochi giorni fa un signore autorevole perché si chiama Panetta ed è governatore di Banca Italia ed è stato nel board della BCE che dice in sostanza poi l'Italia tra luce ombre non è messa malissimo la crescita a 0,7 più che in altre zone d'Europa siamo messi male con i salari i salari non incideranno sull'inflazione quindi cara BCE ma già lo diceva quando era nel board affettatevi a cominciare a tagliare i tassi di interesse le nostre imprese solide che mi diceva ma sì il discorso di Panetta è sul filo della coerenza di quello che ha detto in questi anni la BCE e soprattutto come dire smonta un po' il catastrofismo di chi dice tutto male signori in realtà non è così anche le stime rese note dalla comunità dall'Unione Europea parlano sicuramente di un rallentamento che riguarda tutta l'area dell'euro che scenderebbe da una crescita ipotizzata dall'1,2 allo 0,8 e anche per noi dallo 0,9 allo 0,7 però un dato importante sottolineato dall'Istat e dalla Banca d'Italia dal suo nuovo governatore è che comunque queste prospettive di crescita vanno viste in un periodo che non sia effimero di pochi mesi insomma il dato molto interessante che sottolinea Panetta è che la crescita in Italia dalla pandemia in poi recuperando quindi di quel periodo è stata di 3,6 punti significa che abbiamo fatto il doppio meglio della Francia ferma 1,8 e non ne parliamo della Germania che è cresciuta in questi tre anni solo dello 0,1 quindi da questo punto di vista bisogna essere molto realisti Panetta che dice? Panetta smonta punto per punto anche tutte le teorie sull'inflazione l'inflazione secondo la UE crescerà in Italia in questo anno solo del 2% e quindi anche da questo punto di vista in prospettiva del discorso dei tassi della BCE il discorso di Panetta è molto realista nel senso che comunque un processo graduale si dovrà compiere ancora diceva qualcuno anche diciamo autorevoli fonti monetarie banche d'Italia l'Europa eccetera attenzione perché l'inflazione potrebbe essere rianimata da questa rincorsa salari prezzi dice che non è così questa rincorsa o questa possibilità di rincorsa dice Panetta è assolutamente esigua anzi un recupero del potere dei salari potrebbe aiutare anche un recupero dei consumi che peraltro tengono dice il governatore e anche sostenere la ripresa quindi smontati tutti tesi che praticamente erano un po' pessimistiche diciamo così terzo capitolo del nostro pastone qui non so se mi sembra qui non c'è nessun disturbo cognitivo solo notizie ma dobbiamo capire se queste notizie fanno una tendenza cioè la fine forse per alcuni del romanzo del nostro capitalismo familiare la Fiat ormai è diventata Stellantis e tra mille polemiche insomma è più francese che italiana ora non parliamo qui di delocalizzazione parliamo proprio di assetto proprietario ma anche insomma la famiglia Moratti esce dal controllo di Saras per una bella cifra a favore di? a favore di un trader un commerciante ecco un commerciante mondiale molto importante olandese Vitol ma la cosa importante di tendenza come dicevi te è che in questo momento non abbiamo più raffinerie italiane noi parliamo di quelle importanti avevamo la raffineria di Priolo in Sicilia della famiglia Garrone passata ai russi di Lukoil che per vicende note hanno dovuto poi vendere e hanno venduto a un fondo di Cipriota e così adesso Sarroc in Sardegna corre diciamo verso lo stesso destino perché è importante in questa notizia perché comunque nonostante tanti discorsi anche alcuni molto enfatici e belli sulla transizione ecologica la transizione verde il petrolio è destinato ad essere ancora per decine anni centrali e questo significa che questi commercianti di petrolio potranno portare diciamo tutto il prodotto in Italia e raffinarlo e noi probabilmente non godremmo della stessa politica dei prezzi e dei stessi vantaggi che avevamo prima in generale questo discorso si inserisce come dicevi te in un abbandono così delle grandi famiglie del capitalismo italiano della proprietà non sempre questo ha significato di localizzare molte di queste produzioni sono rimaste in Italia ma sicuramente la proprietà è straniera e poi soprattutto questo processo ha riguardato anche aziende sensibili penso per esempio a Telecom che in mano prima a famiglie italiane importanti come con la Ninna e Tronchetti Provera adesso si ritrovano anche esse francesi è una cosa su cui riflettere e meno male dico io che esistono le partecipate pubbliche anche se sono quotate in borsa anche se comunque hanno avuto una parte privatizzata che sono ancora in mano italiana e io ci aggiungo un piccolo ricordo personale di giovane ragazzo viterbese romano immigrato a Milano andavo allo stadio insomma a vedere andavo qualche volta invitato a una tribuna d'autorità vedevo Moratti e Berlusconi adesso insomma i giovedori dell'Inter hanno solo una vaglietta con la scritta in cinese l'ho visto l'altro giorno in Roma Inter e insomma io tra poco e ora vado a vedere insomma vado a vedere insomma il prossimo weekend a Mila con i miei figli e sono di proprietà americana insomma è cambiato il mondo in pochi anni anche nel simbolo del versante della proprietà calcista insomma era una nota di costume no no è vero ormai diciamo sono grandissime squadre sono in mano a fondi americani certo allora grazie a Giuliano Zoppis per questa cavalcata che abbiamo fatto sui temi è giusto anche qualche volta mettere insieme che trovate nei giornali nei telegiornali nei talk ve li raccontiamo li analizziamo li spieghiamo come è insomma il mandato di Italpest Economy e insieme ci vediamo le ultime notizie di un mondo importante per la nostra economia che è quello dell'agri-food il servizio è stato approvato il piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare per il 2024 l'obiettivo è contrastare pratiche sleali e assicurare ai cittadini elevati standard di qualità e salubrità degli alimenti il via libera al documento è arrivato dalla cabina di regia per i controlli agroalimentari voluta dal ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida via libera anche al vademecum per i controlli per le aziende nel settore agroalimentare un documento che indica le modalità delle azioni di monitoraggio della cabina di regia interforze nel 2023 i controlli sull'agroalimentare effettuati sono stati oltre 191 mila l'attività di monitoraggio sull'erogazione dei fondi europei inoltre ha portato ad accertare che gli aiuti indebitamente percepiti sono stati circa 98 milioni su un totale di poco meno di 190 milioni di euro il piano operativo dei controlli agroalimentari 2024 indica per ciascuna filiera le attività ispettive che si svolgeranno nell'anno in corso l'obiettivo è quello di evitare inutili duplicazioni di controllo e tutelare i produttori onesti isolando coloro che attuano una concorrenza sleale anche sfruttando e utilizzando prodotti che arrivano da quei paesi che non rispettano le regole è tutto allora per questa puntata ci rivediamo venerdì prossimo non dimenticate l'appuntamento con Italpress Economy grazie per averci seguito e arrivederci